RICONOSCIMENTO IDENTITÀ INIZIATO Buongiorno, Agente Sterling. Che il gioco abbia inizio. RICONOSCIMENTO DI DEL� Millionaire Ho funzionato. Il soggetto è visibilmente confuso Walter, che cosa hai fatto? I piccioni sono ovunque e nessuno li nota È il miglior travestimento che una spia possa avere Vedi di spiccionarmi subito Basta, ragazza, sul serio Ehi, Lance, guardami Guardarti? Io non riesco a guardarti, Walter Vedo le mie chiappe e la tua faccia allo stesso tempo Grazie a tutti